Aeroporto d'Abruzzo in deficit di 5,3 milioni di euro. La voce ormai si ripeteva da mesi, necessaria una ricapitalizzazione per salvare il futuro di quella che è considerata un'infrastruttura necessaria e indispensabile al turismo, all'indotto economico e collegamenti, insomma allo sviluppo della regione. E proprio la regione Abruzzo si mobilita per salvare la saga, la società che gestisce l'aeroporto, ma il provvedimento trova un blocco nel corso della commissione di bilancio. Il blocco è quello del Movimento 5 Stelle che chiede, prima di firmare per l'approvazione della ricapitalizzazione, chiede l'audizione con i vertici dell'aeroporto per venire a conoscenza delle cause del buco delle casse. Da lì in poi una bagarre che porta prima a votare per la richiesta dei grillini e poi ad interromperla per passare alla votazione successiva per approvazione della legge nel corso del prossimo Consiglio regionale all'Aquila, dell'Aquila, ignorando a pie e pari le richieste dei 5 Stelle. I 5,3 milioni di euro messi a disposizione per la ricapitalizzazione arrivano dal cosiddetto capitolo interventi straordinari a favore del mezzogiorno, per intenderci quelli destinati alle attività produttive in difficoltà. Da qui arriva la prima opposizione dei grillini che dicono magari quei fondi potevano essere destinati a piccoli imprenditori. A questo serviva l'audizione da noi richiesta in commissione di bilancio. La seconda notizia è che l'ex governatore della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, rende noto che il deficit della saga non è dell'ultima ora. E cioè che si tratta di un dato costante. Negli ultimi anni l'aeroporto d'Abruzzo ha sempre chiuso il suo bilancio con quasi 6 milioni di debito, poiché, spiega Chiodi, i ricavi sono sempre stati inferiori ai costi di gestione, come in quasi tutti i piccoli aeroporti esistenti. E aggiunge, solo che fino all'anno scorso, la regione Abruzzo, grazie al cosiddetto piano marketing, aveva sempre versato quei 6 milioni alla saga. Azione che non è più permessa a seguito dell'impugnativa della comunità europea che blocca gli aiuti di Stato. I fondi dunque quest'anno sono stati ricavati da altra fonte, quelli destinati al mezzogiorno appunto. Qui la comunità europea non può bloccarli e aggiunge il consigliere Sospiri di Forza Italia, la saga ha svolto un ultimo lavoro, anzi ha fatto che l'attuale presidente, Lucio Laureti, sta mandando avanti l'aeroporto con i soldi in bilancio per il 2012, dunque da un anno e mezzo. I fondi trovati per la sua ricapitalizzazione, spiega Sospiri, sono addirittura soldi non spesi del capitolo Agenzia del Sud risalenti agli anni 80 e 90. Abbiamo fatto un lavoro certosino, il Movimento 5 Stelle non sa di cosa si parli quando si oppone. Inoltre, aggiungono Chiodi e Sospiri, la legge che andremo a firmare martedì in Consiglio regionale all'Aquila è una legge da noi costituita alla quale la Giunta ad Alfonso ha solo aggiunto un comma, quindi ci troviamo in linea con le nostre scelte. Martedì prossimo dunque si annuncia una votazione animata all'emiciclo.